Buonasera, siamo sempre amore della forma in giro, a sto giro siamo al registro Shovel. Adesso bisogna fare un giro fuori dai mezzi, che ce n'è veramente 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 tanti. Vado a fare diretto sui mezzi eh? Diretto eh? Chi è sto qua? Eh non lo so, non lo so più. Si fa! Io in diretta, hai di qualcosa? Olli! Aaaaaaah! Si, il numero uno dei fottuti. Buongiorno! Buongiorno! Facciamo un giro un po' su mezzi. Siamo qua a Rodino, che c'è il ventesimo anniversario degli Shovel. Ce n'è veramente tante. Ce n'è veramente tante. C'è l'imbarazzo della scelta. C'è l'imbarazzo della scelta. Quanti siete? Quante moto siete più o meno? Ah, è bersa. Ce ne saranno centinaia secondo me. C'è veramente di tutto. Adesso mi piena Langa eh? Qualche guarda da fuori, piena Langa. Rodino, provincia di Cuneo. Se deve fare un giro, c'è gli altri mezzi. C'è anche un bel guzzino. Questa che bella. C'è anche un guzzino. Ed è anche bella. Questa che bella sta a fare. C'è anche qualche mezzo americano. C'è anche la solita mia è il cammino. Sono in fondo. Facciamo un giro. C'è un po' di sole ma via. Giornata strepitosa. Ha accompagnato il giro. È andata più che bene perché l'ha fatto bellissimo. Pezzi della madonna. Tutta roba funzionante. C'è gente che gira anche parecchi chilometri. C'è dal Veneto, ce n'è da tutte le parti. Ce n'è. Bella Iron. Electra. C'è veramente dei bei ferri. Sono belli. Facciamo un giro di qua. E tutti gli anni fanno un raduno. Ce n'è veramente tante. Un bel cioperone. Questo non è un Mietta 40. Questo è bello. Questa qui è quella di... di Cuomo. Bel ferro. Questa originalissima. Bella. Questa. 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 Voilà, il tour è fatto. Sono ritornato al tavolo, chiudiamo la diretta. Ciao a tutti. Vi vedo il video con lui che va alla lingua e bacola a tutti. Ciao gente, torniamo a TV sempre. Ciao a tutti.